Il libro della Genesi ci ricorda il tema proprio della venuta, quindi il tema dell'attesa messianica che tutto il popolo di Israele viveva a quel tempo. Siamo all'Istituto di Agraria di Piacenza, diamo la parola allo studente Lucio che ci porta la sua riflessione. Verrà colui a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Questa è la frase di questa settimana e noi riflettendo insieme, beh, indubbiamente abbiamo pensato che ci riferiamo al Natale, quindi al momento in cui Gesù arriva sulla Terra. Si parla un po' del messaggio che porta Gesù. Il messaggio che porta merita di essere veramente seguito da tutti, perché è un messaggio autorevole e che sconvolge un po' le logiche che ci sono sulla Terra. E soprattutto le logiche che hanno i potenti sulla Terra. Infatti non predica il potere, ma esalta l'umiltà, ad esempio. Oppure non dà importanza ai beni materiali, e così via.